Ciao a tutti ragazzi e benvenuti su Lelking TV Continua lo sfacchettamento con Brasile 2014 Ragazzi Abbiamo le nostre belle 5 bustine da aprire Più faremo il nostro cielo mi manca Come al solito Mi raccomando se non siete iscritti al canale Iscrivetevi e attivate la campanella Per essere sempre aggiornati su quello che succede Intorno al canale E seguitemi anche su Instagram Basta cercare Lelking TV Mi potete trovare anche lì Per sapere le cose in anteprima Delle prossime uscite che ci saranno Allora Apriamo subito il primo pacchetto Di Brasile 2014 E vediamo cosa troviamo Mamma mia ragazzi abbiamo trovato Pogba Come al solito votate la vostra figurina preferita Sicuramente questa E' una delle possibili Poi abbiamo trovato Sacco Della Francia Ballottelli Super Mario Eccolo qui Eccolo qui ragazzi Abbiamo trovato anche Super Mario Ballottelli Anche questo potrebbe prendere Molti voti Mattias Fernandez E una parte di Stadio Allora poi troviamo Saritama Hendo Giocatore giapponese Ambrose Della Nigeria Bamba Della Costa d'Avorio E un'altra parte Di uno stadio Brasiliano Terzo pacchetto Ah Javer Hernandez Anche questo potrebbe prendere molti voti Li metto qui Più papabili E poi sceglierò la mia figurina preferita Di questo spacchettamento E voi Scriverete sotto nei commenti La vostra Rodríguez Del Messico Lo scudetto Del Cameron David Silva Della Spagna Anche questa Perché no Potrebbe andare a finire Qui Sono tutti top player E Banega Dell'Argentina Eccolo qui Anche lui E' un papabile Per essere la migliore figurina Di questo spacchettamento Banega Che Molti di voi se lo ricorderanno Anche all'Inter La sua non è stata una stagione felicissima Quella in Italia E poi troviamo Medjuanin Penso che così si pronuncia Della Bosnia Eduardo Della Croazia Oh Bonucci Dell'Italia Anche lui Lo mettiamo qui Fra i top player Aurier Nella Costa d'Avorio Ezequiel Lavezzi Dell'Argentina Per lui Una felicissima stagione Una Più di una felicissima stagione A Napoli Era un idolo Poi il suo passaggio Al Paris Saint Germain Poi troviamo La formazione del Messico Poi troviamo Lecchi Dell'Australia Bu Bukyung Della Corea Inler Giocatore Della Svizzera In Italia Giocato con Udinese E Nauli Gustavo Del Brasile Ragazzi La mia Figurina Preferita Di questo Spacchettamento È quella Di Poppa Fatemi sapere La vostra Qui sotto Nei commenti Adesso Prepariamo Tutte le figurine Mettiamo in ordine Numerico E faremo Il nostro Cello mi manca Ragazzi Siamo pronti Ad iniziare Con il Cello mi manca La prima figurina Abbiamo trovato È la Numero 29 Che mi manca Ecco qui Che è una parte Dello stadio Di Salvator A me Su quest'album Queste figurine Degli stadio Mi mettono Un po' Di Come posso dire Non lo so C'è questa doppia riga Verde Non so se si vede E bianca Mi spiazza un attimino Mi piace tantissimo Poi abbiamo trovato Un'altra parte Di Un altro stadio Quello di Di San Paolo Che è doppione Che è la parte A sinistra Mi manca la parte A destra E poi La prima figurina Troviamo È del Brasile Che è la 42 Che mi manca Eccolo qui Luis Gustavo Giocatore Brasiliano Che in quegli anni Giocava Al Wolfsburg Poi Abbiamo trovato La figurina Della Croazia Che ce l'abbiamo Completa Che è Eduardo Do sta Eduardo Eccolo Doppione Croazia Che poi Quest'album Del 2014 Nel 2012 Nel 2000 Scusate 2018 È arrivata In finale Come sapete tutti Della Coppa del Mondo Contro la Francia Poi persa Poi abbiamo trovato Del Messico La squadra Che ce l'abbiamo Rodríguez Ce l'abbiamo Eccolo lì Hernández Eccolo C'è anche lui Del Camerun Praticamente abbiamo tutti Abbiamo trovato Lo squadetto Un altro doppione Ma Dopotutto ci mancano Non tantissime figurine In quest'album Quindi pure normale Davide Silva Invece ci manca 121 Della Spagna Qui c'è Un'intera pagina Questa a sinistra Di cui non ho ne manco Una figurina Ragazzi Alcuni di voi Mi hanno chiesto Degli scambi Con queste figurine Sì Sono disposto A scambiare Però ragazzi Un attimino Perché devo ancora Sistemare Le mancoliste E devo trovare Dove ho messo i doppioni Vi dico la verità Non mi ricordo più Dove ho messo i doppioni Di questa collezione Poi abbiamo Mattias Fernandez Che qui Come potete vedere Al lato della figurina Adesso Vediamo se riusciamo A mettere a fuoco Giocava Nella Fiorentina Poi 182 Mi manca Dell'Australia Della Colombia Ci manca soltanto La squadra Qui c'è Ospina Portiere che adesso È in forza Al Napoli Qui c'è la Grecia Nella Costa d'Avorio Ne abbiamo trovati due Ma sono entrambi i doppioni Perché ce l'abbiamo tutti Eccolo qua Uno E l'altro È Bamba E vai con la Bamba E ce l'abbiamo Doppione anche lui Qui nella Costa d'Avorio Diciamo Di questi anni C'è Gervigno Eccolo qui Che nel 2014 Festiva la maglia della Roma E Drogba Il Giappone I giapponesini Ce l'abbiamo tutti I giapponesini Abbiamo trovato Endo Eccolo Doppione Poi dell'Italia Col 321 Quindi dobbiamo saltare Parecchie squadre Tra cui Uruguay Costa Rica Inghilterra E arriviamo all'Italia Dell'Italia Abbiamo tutti Eccolo Bonucci Leonardo Bonucci Che ce l'ho Premiamente dell'Italia Mi manca lo scudetto E la formazione E Super Mario Anche lui Ce l'ho Poi passiamo Alla Svizzera Inler Ce l'abbiamo Inler E poi Eccoci qui All'Equador Saritama Ce l'ho Saritama Ce l'ho Giocatore Dell'Equador Della Francia Ce l'abbiamo Tutti Quindi E Saco Eccolo Saco Mamma mia Faccia arrabbiata Ce l'abbiamo E Pogba Ce l'abbiamo Pogba Che nel 2014 Come potete vedere Dalla figurina Giocava Con la maglia Bianconera Bianconera Della Juventus Dell'Honduras Uguale Me ne mancano tante Banega Ce l'ho E Lavezzi Ce l'ho Andiamo avanti Bosnia La Bosnia Di Ettingeco E Miralem Pjanic Tra i più Conosciuti Poi c'è Lulic E 442 Ce l'ho Quindi ragazzi Anche qui Doppioni Su doppioni Arriviamo Alla Nigeria Della Nigeria Abbiamo trovato Ambrose Ce l'ho Germania Ce l'ho tutti Dobbiamo arrivare Alla Corea Questo E' il Portogallo Qui c'è Cristiano Ronaldo CR7 Il Ghana Gli Stati Uniti Attenzione Non c'è Nessuna pagina Belgio Algeria Russia E Eccoci qua Alla Corea Abbiamo trovato La 634 Che è Doppione Ragazzi Per adesso È tutto Con questo video Ragazzi Vi saluto Ci vediamo Prossimamente Con i prossimi Video Ciao a tutti 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 Ciao a tutti